siamo arrivati a martedì 16 aprile 2019 oggi dovremo trovare 7 rm di push press a seguire un 4 time 10 power clean, 10 air squat, 10 front squat, 50 air squat, 10 push jerk, 50 air squat e 10 cluster pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco ci rivediamo domani per un'altra classe insieme su cper tv buona giornata